Ritorniamo a parlare sempre di organizzazione di regione toscana e anche di esigenze pratiche proprio dei pazienti. Allora io cercherò prima di sintetizzare al massimo i rapporti tra il tema la nutrizione e il cancro e il percorso del paziente oncologico e poi vi farò vedere come faticosamente anche grazie al contributo di alcune persone che sono qui in sala abbiamo prodotto un PDTA per il supporto nutrizionale nel paziente oncologico. Allora i rapporti tra la nutrizione e il cancro sono ovviamente molteplici, ce n'è uno fuori tema rispetto ad oggi però vale la pena ricordarlo. Ricordiamoci che una buona alimentazione ha un effetto preventivo da un punto di vista oncologico rilevante. Ricordo a tutti che lo IARC dice che un terzo dei tumori che noi oggi vediamo sarebbero evitabili con buoni comportamenti individuali e collettivi, un terzo di questi terzo di tumori evitabili sarebbero evitabili con una buona alimentazione, un'alimentazione corretta. Punto. Il mio tema è invece di vedere gli aspetti relativi al paziente oncologico. Allora vi dico quanto sono numerose le situazioni in cui una riflessione sulla nutrizione sarebbe assolutamente centrale. Lo stato nutrizionale sicuramente migliora la tolleranza ai trattamenti oncologici, tanto che in alcuni casi non facciamo il trattamento perché lo stato nutrizionale non ce lo consente. E voi sapete come oggi sia fondamentale rispettare i tempi e il trattamento oncologico perché sono gli anni in cui si incomincia a vincere la partita. Ma lo stato nutrizionale è fondamentale anche per la qualità di vita del paziente oncologico. Noi oggi non possiamo non considerare la qualità di vita come un valore forte nella nostra valutazione del paziente oncologico. Anche qui sono finiti i tempi in cui la partita oncologica era una partita o la va o la spacca e non si teneva conto di nessun altro aspetto. Ma ci sono ulteriori elementi. Per esempio alcune terapie interferiscono sullo stato nutrizionale. La maggior parte delle terapie oncologiche per i loro effetti collaterali e non solo interferiscono sullo stato nutrizionale del paziente. E poi ci sono in oncologia alcune situazioni patologiche che interferiscono sulla possibilità di nutrirsi adeguatamente. In tutte queste situazioni c'è dietro l'angolo il pericolo di non poter gestire il paziente oncologico al meglio con le cure che oggi producono risultati. Ma ancora andiamo avanti. Voi sapete meglio di me che le variazioni di peso è una delle cose con cui si monitora lo stato di salute del paziente oncologico. La domanda quando si ha il dubbio che la malattia stia riprendendo ma il peso come va? Oppure il caregiver che ti dice guarda questo paziente ha perso tre chili nell'intervallo tra un ciclo eh eh precedente e c'è un altro aspetto che devo considerare cioè la grande eh proliferazione che c'è di fake news di santoni di delinquenti che ruotano intorno al tema dei consigli alimentari ai pazienti con cancro. Eh questa è una cosa che dobbiamo avere coraggio eh di dirci perché eh ci sono delinquenti che dicono si può guarire il cancro mangiando alcune sostanze ma ci sono altri delinquenti o comunque persone che non sono al livello della dimostrazione scientifica di quello che affermano che ti raccontano diete alcune delle delle quali delle quali veramente ridicole ideali mentre per esempio si fa eh la chemioterapia digiuno e e e così via. E l'altro elemento è come ormai sia chiaro anche alla luce di queste cose come sia importante porre il problema dell'alimentazione e del supporto nutrizionale se questo è necessario all'inizio del eh del percorso eh oncologico se non altro per aprire un'altra suggestione ma non posso fare a meno eh di farlo tutti voi sapete il rapporto tra nutrizione e sistema immunitario e voi sapete quante suggestioni ci sono nel rapporto tra sistema immunitario e evoluzione della eh malattia oncologico. Allora noi abbiamo come eh mondo oncologico la necessità di fare eh eh alcune alcune cose. La prima credo che sia fondamentale agire sulla tempestività e lo e la programmazione dell'intervento nutrizionale. Quando parlo intervento nutrizionale parlo di tutto eh dal counseling fino alla l'alimentazione artificiale parlo di tutto. Allora questo elemento di spostare piano piano in fase precoce l'attenzione all'aspetto nutrizionale del paziente oncologico è eh è centrale come è stato centrale nella storia eh dell'oncologia anticipare che so l'attenzione al controllo dei sintomi e non lasciarlo alla fase eh della pagliazione anticipare il momento della riabilitazione oggi un settore estremamente interessante sul quale dovemmo eh riflettere lo dico anche agli amici di motore sanità perché un tema rilevante è quello è la pre riabilitazione cioè anticipare il momento riabilitativo addirittura nella fase eh pre eh pre chirurgico. L'altro elemento è di avere una omogeneità dei comportamenti. Io in tutti ho sentito dire te che ti preoccupi ma va a Firenze oppure va in provincia. Un'omogeneità dei comportamenti e anche se me lo consentite una definizione dei ruoli perché è un team quello che lavora intorno eh alla nutrizione la valorizzazione delle differenze credo sia assolutamente fondamentale e poi e poi il terzo tema molto collegato ai primi due il superamento delle diseguità. Non ci si può permettere in eh supporto nutrizionale come in riabilitazione oncologica come in controllo dei sintomi avere diseguità siano diseguità di accesso diseguità di presa in carico diseguità legate alla prossimità dei centri di trattamento non ce lo possiamo eh permettere. Noi abbiamo fatto portiamo il nostro piccolo contributo noi come rete oncologica della regione toscana abbiamo costruito un PDTA eh per il supporto nutrizionale del paziente eh eh oncologico. Quindi eh voglio dire nella galassia delle cose da fare abbiamo cercato di coprire un pezzetto eh non è il PDTA dei nutrizionisti è il PDTA della rete oncologica che dice cerchiamo di mettere regole nell'ottica della equità, prossimità, omogenità dell'offerta, delle regole per il nostro eh paziente eh oncologico. Questo eh PDTA nasce dentro la rete oncologica quindi è una produzione, un'espressione del mondo oncologico ed è anche se se volete la cartina torna sole dell'evoluzione che c'è eh in oncologia. Da un po' di tempo abbiamo fatto PDTA sulla riabilitazione oncologica. Una volta cancro e riabilitazione erano degli ossimoli cioè non 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 avevano eh eh un senso. Bene. Eh eh come sempre quando si fa un PDTA si ottiene comunque due risultati che ti piacciono. Il primo è che metti insieme persone diverse con formazioni diverse eh a discutere perché devono discutere perché eh c'è da decidere insieme sottoscrivere eh un eh un documento. L'altro elemento è perché alla fine metti a terra non la rivoluzione ma poche cose fondamentali che possano in qualche maniera se calate nella realtà modificare lo stato eh delle cose. Il gruppo di lavoro è stato molto ampio mi sembra quaranta quarantacinque persone chiedo supporto a voi che ci avete eh partecipato quindi un gruppo molto ampio un gruppo molto rappresentativo. Questo è un altro aspetto a cui eh ci teniamo molto perché non è solo rappresentativo delle tre realtà geografiche della Toscana. Questa è una cosa imparato fin dall'inizio dai tempi che Enrico faceva eh un altro lavoro. Le tre realtà geografiche devono essere eh ben rappresentate ma rappresentativo di figure professionali. Mi ha colpito per esempio che da un punto di vista di specialità mediche non c'era soltanto l'oncologo e il gastroenterologo, c'era eh l'internista e così via ma tante figure anche non strettamente mediche ma che hanno un ruolo centrale in eh in questo lavoro. Il percorso anche perché è bene dare eh notizie in questo senso come tutti i PDTA regionali della rete eh oncologica ha avuto l'approvazione dall'organismo che è il coordinamento dei dipartimenti oncologici. Questo significa che tutti i dipartimenti oncologici approvano quel PDTA. Ora è in regione dove viene recepito come un atto eh formale e anche questa consentitemelo non è una cosa eh banale non è eh il valore di timbro o dell'intestazione no è una forma come dire di correttezza tra le istituzioni e i cittadini e eh e viceversa e poi sarà eh declinato nelle diverse aree vaste. Questo è un percorso burocratico ma le cose hanno un senso perché che cosa significa? Significa che io ho fatto un PDTA regionale che definisce le cose che valgono per tutti i pazienti oncologici presi in carico in Toscana nella regione Toscana. Poi poi a livello di ciascun ambito territoriale si dovrà dire con estrema chiarezza quello che è il senso del PDTA. Chi fa che cosa? Dove? In quali situazioni? Come si accede? Con quali ehm parametri si va a valutare eh le eh l'efficacia. E questo mi sembra un percorso che non solo ormai è a termine ma invito le associazioni a sostenerlo a fare eh il loro il loro lavoro. Quali sono? Non sta non è questa la sede e non siete certo voi le persone a cui racconterai niente di nuovo però ci sono due cose a mio parere fondamentali che sono quelle cose che dicevo prima possono cambiare eh la realtà. Il primo elemento è che si definisce che ogni paziente oncologico quindi ogni paziente oncologico ha il primo impatto con il sistema oncologico deve avere una valutazione nutrizionale deve avere una valutazione nutrizionale non chiediamo al nutrizionista allo specialista di fare questa valutazione ma obblighiamo il sistema di accesso alla rete oncologia a fare una cosa molto semplice elementare che ci consenta di dire semaforo verde semaforo giallo semaforo rosso rispetto ad una fase successiva. Vorremmo che questa valutazione nutrizionale molto basic molto basic fosse un elemento centrale della cartella clinica del paziente oncologico cioè dell'inizio del eh suo percorso e vorremmo che venisse fatta al primo impatto. Siamo stati tanto a discutere su questa cosa ma io ho pazienti che sono sicuramente stanno meglio di me da un punto di vista nutrizionale eh c'ho atletiche non importa eh il la valutazione nutrizionale come cari colleghi la valutazione dei sintomi come la valutazione del bisogno di presa in carico psicologica deve essere fatta a tutti i soggetti perché è una funzione di triage assolutamente eh fondamentale. Questo ci deve portare all'individuazione precoce quindi il valore del triage del bisogno del eh bisogno questa eh declinazione del bisogno poi si manifesterà ed è questo un altro elemento importante dell'organizzazione con un'articolazione della presa in carico che va che copre tutta la scala eh dei grigi no? Ci può essere banalmente il counseling. Ragioniamo per vedere se ti riesci di mangiare in maniera diversa per il bisogno che ti si sta eh determinando. Ci può essere un'azione della dieta. Cambiamo le tue abitudini alimentari o adattiamoli. Oppure una dieta eh sostenuta in cui si tengono insieme anche elementi eh di supporto. Ma si può arrivare alla nutrizione interale e alla nutrizione eh parentelare con team dedicati per questa attività con l'obiettivo di una reciproca e fruttuosa contaminazione fra i professionisti dell'oncologia e i professionisti del mondo eh nutrizionale. Tutti e due questi mondi hanno da imparare eh l'uno dall'altro ma soprattutto tutti e due possono dare un loro contributo nel percorso del paziente eh oncologico. L'obiettivo che ci siamo dati è molto alto ma però ci piace eh in Toscana darci sempre obiettivi alti. Nostro obiettivo è che vorremmo che al regime di questo percorso l'ottanta per cento dei pazienti oncologici avesse in cartella quella valutazione nutrizionale. Poi può darsi da quello dei termini soltanto un dieci per cento, un cinque per cento di pesa in carico. Ma intanto significa che l'abbiamo valutato e significa anche che abbiamo un tempo zero per valutare poi eventuali eh modifiche. Cito a conclusione un altro aspetto. Considerate che eh due giorni fa è andata in conferenza Stato-Regione un documento importante eh al quale ho modestamente contribuito anch'io di Agenas sulla costruzione, sulla prospettiva di una riorganizzazione oncologica a livello territoriale. Quello che passa sotto il nome di oncologia eh territoriale. Ecco eh signori siccome siamo nella necessità di dover riempire caselle di che cosa si fa a livello territoriale non mi interessa sapere l'affiliazione eh prima con lui si diceva no sta nel mezzo tra territorio e ospedale. Non mi interessa. Mi interessa però che il territorio cioè il tempo che il paziente oncologico passa nel territorio che è molto lungo sia presidiato anche da questo tema eh del supporto nutrizionale. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.